Ci tenevamo da volere a vincere il derby con Verona, venivamo da 4 sconfitte consecutive, sappiamo quanto il pubblico blusciano ci tenga a vincere questa partita qua e secondo me era il desiderio di tutti, era la volta di tutti. Alla squadra avevo detto che conta il desiderio e quanta voglia ognuno di noi ha di mettere sul campo stasera e di essere visto chiaramente dallo staff, allo squadra, al pubblico, alla società, tutti avevano un grande desiderio di vincere e questo ha fatto la differenza. Complimenti a Verona perché è una squadra tosta, è una squadra che chiaramente ha classe, ha potenzialità e ha complesso, chiaramente difficoltà come è giusto che sia, però ecco la reazione che abbiamo avuto nella seconda parte di partita è stata da grande squadra e concedere a loro 18 punti in due quarti direi che la difesa è stata davvero grande, la voglia di aiutarsi, la voglia di combattere, questo è chiaro che è quello che tutti volevano vedere e quello che abbiamo fatto vedere stasera e quindi io sono enormemente soddisfatto. Grazie a tutti.